Nel giugno del 1988 ho avuto la grande fortuna di conoscere personalmente il genio di Baltimora, Frain Zappa. È stata un'esperienza bellissima. Lui era veramente troppo avanti e quindi quando qualche giorno dopo al suo concerto a Milano mi chiese se volevo suonare con lui sul palco, io mi mise a ridere perché sapevo che Frain Zappa non voleva sul palco nessun altro che non la sua band formata da musicisti eccezionali. Devo dire che mi tremavano le gambe, però andai sul palco e riuscì a portare a termine la mia esibizione. È un piccolo aneddoto, ma aneddoti come questi, potete trovarne quante ne volete su GemTV. Parola del Puma di Lambrate.